Allora, termina questa esperienza, questa stagione con questo torneo Valgisa, abbiamo assistito da una stupenda partita, che dire, di un continuo capovolgimenti di fronte, Giancarlo Simonelli, si tirano le somme? Si, si tirano le somme perché ha vinto il migliore in campo, in questo caso è stato Caffè Marchetti come nome, il miglior giocatore è stato Lello, soprannominato, comunque la serata mi è piaciuta, sono contento, un altro anno si rifarà la seconda edizione del Valgis Fustal. Allora Giancarlo, ma ti aspettavi un finale così tanto acceso, insomma una partita veramente con grandi occasioni da ambo le parti, due squadre comunque che hanno sfoderato veramente dei colpi veramente molto molto belli? Sì, non me l'aspettavo questa finale così piena di emozioni e piena di agonia, però come si dice è sempre una finale ed è sempre sentita, sono stato contento di come è andata e come si è svolta. Vi ringrazio tutte le squadre di aver partecipato a questa prima edizione Valgis Fustal. Grazie Grazie Grazie